Oggi vedremo tre strategie usate dai milionari in Italia per ridurre legalmente le tasse, che potresti usare anche tu. Se è la vostra prima volta, il nostro studio, oltre a difendere i contribuenti in caso di accertamenti dell'Agenzia delle Entrate, offre servizi per aiutarti a ridurre drasticamente le tasse, usare i paradisi fiscali a tuo vantaggio, proteggere i tuoi soldi e patrimonio e vivere una vita con maggior libertà e maggiori opportunità, per te e per la tua famiglia. Visita il nostro sito per saperne di più. Prima strategia. Investire in attività che godono di agevolazioni fiscali. In Italia esistono diverse opportunità per investire in attività che godono di agevolazioni fiscali, come ad esempio l'investimento in start-up innovative, l'acquisto di immobili destinati alla ristrutturazione o alla locazione a canone concordato, l'investimento in beni culturali e artistici, e altro ancora. Investire in queste attività, che variano di anno in anno, può permetterti di ottenere importanti riduzioni fiscali. Seconda strategia. Utilizzare strumenti di pianificazione fiscale. I milionari possono utilizzare strumenti di pianificazione fiscale per ottimizzare la tassazione delle loro attività e delle loro rendite. Ad esempio, potrebbero utilizzare società offshore o trust per gestire i loro beni e le loro attività in modo da ottenere una maggiore flessibilità fiscale. Terza strategia. Utilizzare le detrazioni fiscali. In Italia esistono diverse detrazioni fiscali che possono essere utilizzate per ridurre le tasse. Ad esempio, è possibile usufruire delle detrazioni beni che hanno un alto valore ambientale. Come ad esempio pannelli solari, oppure per l'acquisto di beni destinati all'efficienza energetica della propria abitazione. Utilizzare queste detrazioni può permettere di ottenere una significativa riduzione delle tasse. Sebbene i risparmi maggiori richiedano un'attività di pianificazione fiscale internazionale, queste strategie possono comunque farti conseguire una riduzione fiscale, anche prima di procedere con pianificazioni più complesse.